Sono Giulia Grassilli, sono il direttore di Human Rights Nights, che è un festival di cinema, art e musica dei diritti umani, ma anche un'associazione che promuove i diritti umani e la valorizzazione della diversità culturale. Siamo promotori e organizzatori di questo progetto, Digital Diversity Filmmaking, che è un progetto che è nato da una rete sociale, un'idea innovativa ispirata da Fred Cugio-Cuborno, uno dei registi coinvolti in questo progetto, che si pone come obiettivo quello di incentivare la conoscenza delle tecniche di cinema digitale, soprattutto rivolto alle nuove generazioni. Questa rete, formata da registi e associazioni come Next Generation Italy o Baumhaus, che sono creativi e lavorano molto con i giovani, oppure istituzioni come Centro Donarelli e l'Università di Bologna, con Human Rights Nights, speriamo che possa essere Bologna Channel, che è il nostro media partner, e speriamo possa essere un embryo di qualche cosa che può continuare a contribuire al cambiamento culturale.